Un posto al sole. Trama puntate. Venerdì 17 settembre 2021. Per Renato arriva il momento del tanto temuto interrogatorio con Torre. Giulia nel frattempo, sempre più preoccupata che Maglio possa arrivare a manipolare Adele, vorrebbe fare tutto il possibile per tenere l'uomo alla larga da lei. Si accorge che la Picardi, dopo quanto accaduto a sua figlia, è molto fragile e emotivamente. Nel frattempo Nico riceve un'importante notizia che riguarda Susanna. Sempre più divisa tra Michele e Giancarlo, Silvia confida a Mariella qualcosa di molto forte. Marina non si trova più con suo marito e anzi senta davvero a riconoscerlo. Inoltre quasi fa fatica ad accettare un lato del rosato fino ad ora sconosciuto e inesplorato. E ovvero quello più aggressivo. L'uomo ammette di sentirsi schiacciato dalle critiche ricevute dopo l'uscita della pubblicità volta a sponsorizzare la pasta rosato. Grazie per la visione! Grazie per la visione!